Più forte anche di tutti i problemi legati al terremoto. Continua a correre la Globo Info Service Campli, che centra la quinta vittoria in campionato e resta a punteggio pieno. Al secondo posto, in attesa di recuperare la gara di due domeniche fa del Palaborgognoni contro Senigallia, rinviata per motivi di ordine pubblico. Il primo posto solitario ora resta a pannaggio di bisceglie, sei partite e sei vittorie. Contro Monteroni, in terra salentina, la Globo Info Service tornava in campo con le incognite dettate dalla sosta forzata e con il vice Giovanni Montuori a dirigere la squadra dalla panchina al posto di coach Piero Millina, assente per motivi personali. Con Duranti e Serafini nello starting five e Gatti e Petrucci pronti ad uscire dalla panchina, Campli ha preso progressivamente il comando delle operazioni, 9-18 nel corso del primo quarto, chiuso poi sul 15-20. Nella seconda frazione, dal 27-33, il quintetto Farnese ha impresso un ulteriore sprint per andare all'intervallo lungo sul più 11-29-40. Nel terzo quarto, l'ultima spallata al match per allungare, sino al più 17, 46-63, distacco mantenuto fino al definitivo 59-76. Quattro gli uomini in doppia cifra, 17 per Serafini con 7 su 11 dal campo, 16 per Duranti, 13 per Serroni e 12 per Gatti, 9 punti con 8 assist per Bottioni, per Monteroni 15 di Leucci e 12 di Zanotti. Una vittoria che la Globo Info Service ha voluto dedicare a tutti quei cittadini e sportivi farnesi che a causa del sisma non stanno vivendo un periodo sereno o, peggio ancora, hanno avuto problemi alle loro abitazioni. Sempre attivo sul fronte sociale, il club del presidente Impaloni ha organizzato, tra proposito, un evento per giovedì 10 novembre al Palabor Gognoni, San Martino Insieme. A partire dalle 20 e 30, squadre e società aspettano le famiglie per trascorrere una serata in compagnia, con sorprese per i più piccoli. Grazie a tutti.